Ci troviamo nel campetto di Lampedusa, ho qui con me il Preside Claudio Argento dell'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa. Preside, oggi è una bellissima giornata che coinvolge tutti i ragazzi della scuola media dell'Istituto. Sì, abbiamo quest'anno voluto organizzare per la prima volta dopo tanti anni una giornata dedicata interamente allo sport. Quale migliore occasione lo sport come regola di vita, socializzazione, buon comportamento. I giovani stanno dando veramente l'esempio di come si procede con lo sport, con tutti i giochi e attività che stanno realizzando. Un grazie anche ai docenti che si sono prestati per questa manifestazione, bella manifestazione direi. Anche un grazie al signor sindaco che ha partecipato e che ha presenziato a questi giochi e l'auspicio è che possano realizzarsi anche negli anni a venire. Professore Losardo, hai coinvolto tutti i ragazzi della scuola media? Sì, abbiamo programmato questo progetto all'inizio di anno perché volevamo che i ragazzi della scuola media fossero coinvolti maggiormente possibile nelle attività sportive per far sì che non stessero in mezzo alle strade da giocare con tutti i pericoli che ci sono. Durante l'anno scolastico abbiamo fatto un progetto di castello curriculare dove i ragazzi si sono allenati nella palestra, sia le ragazze che i ragazzi. Le ragazze nella palla a mano, i maschi nel calcio a cinque. E poi abbiamo pensato di fare come chiusura del progetto una manifestazione di fine anno qua a Campo Sportivo perché secondo me lo sport è un momento di aggregazione, di divertimento, di socialità, di svago, di scarico. Penso che i ragazzi da quello che ho visto, questo che noi abbiamo organizzato, programmato, mi è riuscito. I ragazzi si sono veramente ben divertiti, hanno messo in campo quello che hanno imparato durante questo periodo e sono tutto contento e felice secondo me.